Buon pomeriggio a tutti, 14.37, apriamo la seduta della Commissione Speciale di oggi, procedo con l'appello, chiaramente comunicate pure se avete necessità di attestazione. Angelini? Presente. Alleari? Presente, alle 14.30, in presenza con giustizia, grazie. Borrelli? Buon pomeriggio, presente. Cerisola? Consigliere Cerisola? Non mi senti? Non lo vedo collegato. Cuponato? Sono presente, grazie, come giustifica. Ok. Ecca? Buon pomeriggio, sono presente dalle 14.30, in presenza con giustifica. Ok. Sottillo? Ad iniziare. Buon pomeriggio, presente. Salve, procedo con una seconda chiamata per il consigliere Cerisola, che al momento non vedo collegato in seduta. Prego, Presidente. Allora, grazie. Iniziamo col primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale. Vedo che c'è nella cartella da approvare il verbale 9, 24 del 26 settembre. Allora, un momento solo che provo a collegarmi anche da computer, così lo condivido, così condivido lo schermo. Adesso vi risento, prima non vi sentivo più. Eccola, consigliere. Buon pomeriggio. Abbiamo appena iniziato, ci conferma se ha bisogno di giustifica? Sì. Sì. Ok. Grazie. Allora, sì, ho bisogno dell'attestazione, sono presente dalle 14.30. Ho perso la connessione quando aveva chiamato il consigliere Bocchetti. Sì, ok, perfetto. Bene. Presidente, se vuole posso condividere io? Mi sentite ora? Sì, sì, io la sento. Sì, sì. Ok. Scusate, sono passato da computer perché... Non so, ce l'ha fatta e sono contento che ce l'abbia fatta. Allora, apro il verbale, così approviamo il verbale. Gli invitati sono invitati alle 15, ne abbiamo anche tutto il tempo adesso per leggere e approvare il verbale. Il tempo che Microsoft Teams ci permette di farlo. Verbali in approvazione. Eccolo qui. La condivido anche lo schermo, così avrete modo di vederlo. Benissimo. Perdonate il ritardo e la fretta, ma sono rientrato a casa in questo istante che ho avuto dei giri. Allora, bene, iniziamo. La seduta è stata aperta un'ora e un quarto dopo? No. Immagino era alle 14 e 16. Giusto? Chiedo scusa, Presidente. Non l'ho sentita per un attimo. Sì, no. Mi puoi ripetere? La seduta qui c'è scritto che apre alle 15 e 16, ma abbiamo aperto alle 14 e 16, anche perché poi leggo sotto alle 14 e 21 il Presidente dispone una breve sospensione. Sì, sì, sì. È un errore, sì. Confermo che ha aperto alle 14. Ho slittato il... Nessun problema. Ok, allora. La seduta apre alle 14 e 16. Ci sono presenti il Presidente Lorenzo Angelini, Consigliere Alleore Borrelli-Cerisola e che è in presenza Cuconato e Sodillo. Inoltre, Presidente, Assessore Tranquillo e Assessore Cagliardi e il Secretario Verbalizzante Emanuele Lamondo. Adempimenti, il Presidente, dopo aver constatato il numero legale alle 14 e 16, dichiara ufficialmente aperta la seduta odierna, regolarmente convocata alle ore 14 con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale. Segui lettura e approvazione in via preliminare del verbale 724 del 1924, di cui il Presidente dispone lì, inoltre della Presidente di Salvo e alla Consigliere a Canale, ospiti della seduta. Alle 14 e 21, il Presidente dispone a una breve sospensione in attesa degli ospiti previsti per il prossimo punto all'ordine del giorno. Alle 14 e 46, la seduta riapre. Il Presidente prosegue con il secondo punto all'ordine del giorno, Festival Beni Comuni e organizzazione per prima fase, oggetto di alcune sedute precedenti. Avvia la discussione sull'organizzazione del primo incontro del prefestival dei beni comuni, che ricorda è centrato su due temi, il nuovo regolamento dei beni comuni e il patto di collaborazione. Si avvia un dibattito in commissione sul tipo di declinazione dell'intervento, invitati e struttura dell'incontro in base all'ampiezza della platea a cui si intende rivolgersi, se evento al chiuso oppure all'aperto, nella sala istituzionale come prima seduta di lancio, di un ciclo di eventi oppure in un luogo decentrato, ma più ricettivo e simbolici per i cittadini e associazioni. Sulle risorse strumentali a disposizione. Ad esito del confronto il Presidente Angeli tira le fila stabilendo gli assunti convenuti, sul dove l'individuazione dell'aula consigliere come prima seduta di lancio a cui far seguito eventi, sul quando l'opzione dell'ultima settimana di gennaio, sul chi si pensa oltre che a figure professionali e istituzionali coinvolte a quali assessori cagliati e tranquilli, anche ad associazioni in realtà quali esempi positivi in rapporti ai beni comuni. L'assessore Cagliatti suggerisce di caratterizzare il calendario per temi con un pre e un durante a cui dare seguito con l'individuazione dei luoghi simbolici, come per il caso evocativo della piazza pubblica intorno allo spazio di Elsa Morante, ed esperienza del fatto che il bene comune non è solo un elemento giuridico, ma il frutto di una conquista dell'attivismo e del civismo di tutti. L'approccio è partire da un concetto generale per poi progressivamente stringersi nella definizione di alcuni temi specifici, per far conoscere altro che i beni comuni e il municipio stesso. Il Presidente Argini accoglie l'approccio dell'assessore e condivide a schermo lo schema con la sua divisione di tematiche su cui innestare il confronto. All'ora 15.14 lascia la conduzione al Vice Presidente Vigliario Sotillo, che prosegue sull'approfondimento dell'esposizione dello schema con particolare riferimento all'incontro 1 presso la sala consigliare con presenza della realtà municipale e comunali. All'ora 15.20 il Presidente Argini riprende la conduzione della seduta, si impegna ad inviare il file per il passaggio alla fase 2, per cui prevede il coinvolgimento dei commissari in un lavoro di gruppo per l'indicazione di una lista di nomi di persone in realtà territoriali da invitare al netto degli invitati istituzionali. Non essendoci ulteriori interventi dichiara chiuso l'argomento, non essendoci posta per levare eventuali il Presidente informale che le prossime convocazioni verteranno sempre sull'organizzazione FSA per giungere a conclusione. Il Consiglio Ceresora, che domanda chiarimenti rispetto all'ordine dei verbali in approfondizione evidenziando che il verbale della seduta dell'ottagosto non risulta esaminato, viene dalla segretaria verbalizzante precisato che, trattandosi di una seduta congiunta seconda e speciale, in cui a condurre fu il Presidente della Commissione seconda, il numero progressivo del verbale assume gioco forza all'ordine di quest'ultima Commissione con il seguente iter. Il Presidente ha concluso gli argomenti alle ore 15 e 30, dichiara chiusa la seduta. Allora, parte dell'erroia di battitura dell'orario per me va bene. C'è qualche altra opinione, aspetta che apro anche di qua così vedo se sono mani alzate, in caso contrario lo possiamo considerare approvato. Per me va bene. Perfetto, silenzio e assenso per me va bene. Quindi possiamo considerare approvato il verbale. A questo punto aspettiamo le 15 o comunque l'arrivo degli invitati e prendiamoci una pausa e li prendiamo quando arriveranno tutti quanti. Per rompere la registrazione? Sì, grazie. Buon pomeriggio a tutti. 14.37, apriamo la seduta della Commissione speciale di oggi. Procedo con l'appello. Chiaramente comunicate pure se avete necessità di attestazione. Angelini? Presente. Alleari? Presente. Alle 14.30, in presenza con giustizia. Grazie. Ok. Borrelli? Comeriggio presente. Perisola? Grazie. Consigliere Cerisola? Non mi senti? Non lo vedo collegato. Cuponato? Sono presente, grazie, con giustifica. Ok. Ecca? Buon pomeriggio, sono presente dalle 14.30, in presenza, con giustifica. Ok. Sottillo? Ad iniziare. Buon pomeriggio presente. Salve, procedo con una seconda chiamata per il consigliere Cerisola, che al momento non vedo collegato in seduta. Prego, Presidente. Allora, grazie. Iniziamo col primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale. Vedo che c'è nella cartella da approvare il verbale 9, 24 del 26 settembre. Allora, se un momento solo che faccio una, provo a collegarmi anche da computer, così lo condivido, così condivido lo schermo. Adesso vi risento, prima non vi sentivo più. Ecco, la consigliere, buon pomeriggio. Abbiamo appena iniziato, ci conferma se ha bisogno di giustifica? Sì, grazie. Allora, sì, ho bisogno dell'attestazione, sono presente dalle 14.30. Ok. Ho perso la connessione quando aveva chiamato la consigliere Borelli. Sì, ok, perfetto. Grazie. Presidente, se vuole posso condividere io? Sì. Mi sentite ora? Sì, sì, io la sento. Sì, sì. Ok. Sono, scusate, sono passato da computer perché, non so, ce l'ha fatta e sono contento che ce l'abbia fatta. Allora, apro il verbale, così approviamo il verbale. Gli invitati sono invitati alle 15, quindi abbiamo anche tutto il tempo adesso per leggere e approvare il verbale. Il tempo che Microsoft Teams ci permette di farlo. Verbali in approvazione, eccolo qui. La condivido anche lo schermo, così avrete modo di vederlo. Benissimo. Perdonate il ritardo e la fretta, sono rientrato a casa in questo istante che ho avuto dei giri. Allora, bene, iniziamo. Verbale numero 9 del 24, Commissione Speciale e Progetti Speciali. L'anno 24, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 14, è stata convocata la Commissione Speciale e Progetti Speciali, la sensibilizzazione, eccetera. Con i seguenti punti all'ordine del giorno. Verbale del 10, 9 e 24, Festival del Beni Comune, organizzazione di prima fase, esame posta, vari ed eventuali. La seduta avrà le 15 e 16. La seduta è stata aperta un'ora e un quarto dopo? No, immagino era le 14 e 16. Giusto? Chiedo scusa, Presidente, non l'ho sentita per un attimo. Sì, no, assolutamente. Mi puoi ripetere? La seduta qui c'è scritto che apra le 15 e 16, ma abbiamo aperto alle 14 e 16, anche perché poi leggo sotto alle 14 e 21, il Presidente dispone una breve sospensione. Sì, 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 è un errore, sì, confermo che ha aperto alle 14, ho slittato il... Nessun problema. Ok, allora, la seduta apra alle 14 e 16. Sono presenti il Presidente Lorenzo Angelini, consigliere alle ore Borrelli-Cirisola e che in presenza ha cuconato il suo dillo. Inoltre presenti il Sessore Tranquillo e il Sessore Cagliardi, il Secretario verbalizzante Emanuele Lamondo. Adempimenti, il Presidente dopo aver constatato il numero legale alle 14 e 06, dichiara ufficialmente aperta la seduta odierna, regolarmente convocata alle ore 14 con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale. Segue lettura e approvazione in via preliminare del verbale 724 del 1924, di cui il Presidente dispone lì inoltre della Presidente di Salvo e alla consigliera canale ospiti della seduta. Alle 14 e 21 il Presidente dispone a una breve sospensione in attesa degli ospiti previsti per il prossimo punto all'ordine del giorno. Alle 14 e 46 la seduta riapre. Il Presidente prosegue con il secondo punto all'ordine del giorno, Festival Beni Comuni, organizzazione prima fase, oggetto di alcune sedute precedenti. Avvia la discussione sull'organizzazione del primo incontro del prefestival dei beni comuni, che è centrato su due temi, il nuovo regolamento dei beni comuni e il patto di collaborazione. Si avvia un dibattito in commissione sul tipo di declinazione dell'intervento, invitati e struttura dell'incontro in base all'ampiezza della platea a cui si intende rivolgersi. Se evento al chiuso oppure all'aperto, nella sala istituzionale come prima seduta di lancio, di un ciclo di eventi oppure in un luogo decentrato, ma più ricettivo e simbolici per i cittadini e associazioni. Sulle risorse strumentali a disposizione. Ad esito del confronto il Presidente Angeli tira le fila stabilendo gli assunti convenuti, sul dove l'individuazione delle aula consigliere come prima seduta di lancio, a cui far seguito eventi, sul quando, l'opzione dell'ultima settimana di gennaio, sul chi, si pensa oltre che a figure professionali, istituzionali, coinvolte a quali assessore Gagliardi e tranquilli anche ad associazioni in realtà, quali esempi positivi in rapporti e beni comuni. L'assessore Gagliardi suggerisce di caratterizzare il calendario per temi, con un pre e un durante, a cui dare seguito con l'individuazione dei luoghi simbolici, come per il caso evocativo della piazza pubblica intorno allo spazio di Elsa Morante, ed esperienza del fatto che il bene comune non è solo un elemento giuridico, ma il frutto di una conquista dell'attivismo e del civismo di tutti. L'approccio è partire da un concetto generale per poi progressivamente stringersi nella definizione di alcuni temi specifici, per far conoscere altro che i beni comuni e il municipio stesso. Il Presidente Argini accoglie l'approccio dell'assessore e condivide a schermo lo schema con la suddivisione delle tematiche su cui innestare il confronto. A loro 15 e 14 lascia la conduzione al Vicepresidente Vigliario Sotillo, che prosegue sull'approfondimento dell'esposizione dello schema con particolare riferimento, all'incontro 1 presso la sala consigliare con presenza della realtà municipale e comunali. Alle 15 e 20 il Presidente Argini riprende la conduzione della seduta, si impegna ad inviare il file per il passaggio alla fase 2, per cui prevede il coinvolgimento dei commissari in un lavoro di gruppo per l'indicazione di una lista di nomi di persone in realtà territoriali da invitare al netto degli invitati istituzionali. Non essendoci ulteriori interventi dichiara chiuso l'argomento. Non essendoci posta, per levare eventuali il Presidente informa che le prossime convocazioni verteranno sempre sull'organizzazione FSA per giungere a conclusione. Il Consiglio Ceresora, che domanda chiaramente rispetto all'ordine dei verbali, in approfazione evidenziando che il verbale della seduta dell'Ottacotto non risulta esaminato, viene dalla segretaria verbalizzante precisato che, trattandosi di una seduta congiunta seconda e speciale, in cui a condurre fu il Presidente della Commissione seconda, il numero progressivo del verbale assume gioco forza all'ordine di quest'ultima Commissione con il seguente iter. Il Presidente ha concluso gli argomenti alle ore 15.30, dichiara chiusa la seduta. Allora, in parte l'oro di battitura dell'orario per me va bene. C'è qualche altra opinione, aspetta che apro anche di qua così vedo le mani alzate. In caso contrario lo possiamo considerare approvato. Per me va bene. Perfetto. Silenzio e assenso per me va bene. Quindi possiamo considerare approvato il verbale. A questo punto aspettiamo le 15 o comunque l'arrivo degli invitati e prendiamoci una pausa e li prendiamo quando arriveranno tutti quanti. Per rompere la registrazione? Sì, grazie. Grazie.